Musica Allora ci siamo iscritti online, abbiamo preparato il curriculum, fatto le prenotazioni per i colloqui aziendali e adesso siamo qui a fare colloquio con le diverse aziende. È molto interessante e molto utile per noi studenti appunto per iniziare ad approcciare nel mondo del lavoro. Anch'io ho effettuato la mia prenotazione online, però diciamo che non è indispensabile perché puoi metterti in fila tranquillamente e fare il colloquio con l'azienda che ti interessa di più. I think that this is a very good chance for students. I'm not local, I'm from Georgia. We have such events as well, universities, so it's a very good experience for us in Georgia because as I know many students start this job from such activity. So as I saw here, here is almost 100 company, so it's perfect I think. Sibion è un portale di nuova concezione che ha l'obiettivo di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Si compone di due parti, c'è una parte che riguarda i candidati che quindi hanno la possibilità di inserire oltre ai propri dati relativi alla formazione anche la possibilità di registrare un video curriculum che verrà poi visionato dalle aziende. Quando leggiamo un curriculum sicuramente gli elementi a cui prestiamo maggiore attenzione sono il percorso di studio, i tempi con cui si è conseguita la laurea, ovviamente anche il voto di laurea che è comunque un voto oggettivo, ma poi tutti gli elementi che qualificano un CV e lo distinguono dagli altri sono sicuramente le competenze linguistiche che possono essere state acquisite attraverso esperienze all'estero, piuttosto che esperienze extracurriculari, stage all'interno dell'università, piuttosto che all'interno di aziende e di contesti aziendali. Questo è un numero che fa riferimento all'ultimo anno, degli attuali semistri di ricerca potranno dire a lavorare a tempo indeterminato all'università italiana come professore associato. Buonasera a tutti i ridenti, cittadini italici, sono fiera di essere qui stasera in cotesta rettente fortezza dell'istruzione, ma che dici? Ma che è davvero? Ma chi? Ma quella sinistrata? Ma quella sinistrata merigosa? Ma stanno andati qua stasera?